Parliamo della gara anche con Nicolò Tonon, una bella vittoria sul campo difficile per la pergolatese di Olginate, meglio il secondo tempo, primo tempo, come è stato? Il primo tempo ci siamo adattati al campo, che comunque noi siamo abituati a giocare su un campo di solito un po' più grande, io a mio parere però anche il primo tempo, comunque le nostre occasioni, soprattutto all'inizio le abbiamo avute, comunque il gioco è sempre un buon gioco e poi il secondo tempo abbiamo ammazzato la partita subito nei primi minuti. Una volta vantaggio 2-0, però l'unico neo di questa gara, mi è sembrato, insomma, due o tre minuti ancora vi siete tirati indietro, avete lasciato un paio di occasioni a Olginate, lì a questo punto il mister ha sigillato la partita con un difensore in più, lì qualche timore è saltato ancora fuori. Sì, abbiamo un po' questo limite, diciamo che non riusciamo a rimanere concentrati per 90 minuti, cosa che poi come settimana scorsa è successo, poi paghiamo, perché anche settimana scorsa si pensava che avessimo già vinto, invece poi abbiamo abbassato la guardia e oggi fortunatamente invece siamo riusciti a rimanere sul 2-0. Il secondo posto però è saldo adesso? Sì, vedendo gli altri risultati, adesso poi di saldo non c'è niente, la matematica non conferma niente, quindi finché la matematica non dirà che è saldo, non è saldo.